Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video del Cigno del Grifone e oggi come promesso presentiamo il tutorial sulla realizzazione di un'insegna medievale effetto brutto. Cosa vuol dire? È un effetto con legno che sembra consunto, invecchiato, rovinato dal tempo quindi sarà rotto un po' ai lati, sarà brunito, sarà scurito e verranno applicati dei disegni e delle scritte per far capire cosa si fa in quel luogo insomma. Cominciamo subito con spiegare quali tipi di oggetti ci servono. Ok, per ragioni di comodità adesso farò vedere i vari oggetti che servono. Servono dei disegni, questi sono disegni stile celtico ma voi potete utilizzare un po' quello che volete sempre e comunque che sia attinente all'epoca o a quello che dovete fare. Infatti come vedete qui è stato applicato a una piccola tegola. Serve della colla ovviamente per attaccare i disegni, dei pennelli che andranno a scurire il nostro legno o anche a abbassare la cera della carta vetro o un seghetto alternativo. Ovviamente serve il nostro pezzo di legno, in questo caso abbiamo utilizzato del legno di abete perché è uno dei legni più scadenti che si possono trovare, molto economico e anche se andate da un falegname pezzi così ve li regala, ve li butta veramente dietro. Della corda ma potete utilizzare anche una catenella per fare qualcosa di un po' più ricercato una raspa per legno per rendere ancora più brutto, vedete in questo caso qui come lo ha reso smangiato il legno questo ci darà un effetto ancora più consumato. Un pirografo, un cacciavite che magari servirà a farci dei colpi o a farci eventualmente dei buchi bruciati serve anche del caffè, questo è il caffè appena fatto che viene utilizzato per scurire il legno o eventualmente è una maniera diversa che mostreremo, brunirlo sul fuoco. In questo caso si avrà un effetto molto più drastico, molto più drammatico perché ovviamente il fuoco tenderà a scurire e a creare anche degli avvallamenti come se il tempo lo avesse consumato, avesse rovinato il nostro prodotto. Bene, abbiamo tutti i pezzi, ora cominciamo a vedere come procedere con il nostro progetto. Andremo a imbruttire tutti i lati, quindi i lati corti andranno rotti e i lati lunghi andranno smangiati, grattati con una lima o con un coltello per esempio. Come vedete in alcune zone sono andato a mangiare molto di più, questo perché durante l'aggressione del fuoco queste parti faranno un avvallamento e creeranno un effetto ancora più consunto. Se vedete in questa parte sono stati fatti dei segni senza una grande precisione, perché con il nostro seghetto alternativo andremo a tagliare il legno come se fosse rotto. Potremmo anche romperlo con un martello, con qualsiasi cosa, ma siccome questi legni sono tante tavole incollate l'una sull'altra rischieremo di rompere delle sezioni molto precise e quindi non avere l'effetto rotto. In questo caso invece utilizziamo il nostro seghetto, se non abbiamo un seghetto possiamo utilizzare un segaccio a mano andando a creare degli avvallamenti, delle V, qualsiasi cosa che possa ricordare una rottura. Ovviamente siccome l'effetto deve essere molto brutto non dobbiamo essere così precisi. Adesso utilizziamo il seghetto per creare tutti i tagli che renderanno l'effetto rottura. Come dicevo, se non avete il seghetto potete utilizzare anche un segaccio a mano, ci vuole solamente un pochino più di tempo. Come vedete io non sono stato molto preciso, spesso non ho neanche seguito le guide precedenti. Quelle mi servono solamente come una guida, come una base per capire dove partire con il taglio. Adesso il fuoco o eventualmente la raspa mi andranno a rendere più preciso il lavoro che ho fatto. Cominciamo con l'effetto bruciatura. Dobbiamo procedere molto lentamente, in più fate questo lavoro in un posto che comunque sapete sicuro. Qui è tutto aperto, quindi siamo abbastanza sicuri. Come vedete il fuoco tenderà a bruciare i bordi. Quindi andrà a rendere più brutto eliminare determinati difetti di taglio che abbiamo fatto in precedenza. Come vedete il legno è diventato molto scuro. Dopo verrà passato con un po' di carta abrasiva o con una levigatrice, con un orbitale in base a quello che avete per eliminare la polvere e i residui di carbone che si sono creati sul legno e far sì che il disegno che voi andate ad applicare dopo rimanga in rilievo o se andate a utilizzare il pirografo che non vada a camuffarsi con tutto il legno bruciato che c'è sotto. Continuiamo così fino a coprire tutta la tavola. La prima parte della bruciatura è finita, infatti vedete come è diventato scuro il nostro legno a differenza della parte opposta. Questo adesso deve essere tutto carteggiato per farli avere, come dicevo prima, una colorazione molto più leggera altrimenti il disegno non si vedrebbe. Se non volete utilizzare il fuoco perché magari avete paura potete utilizzare sia il caffè, questo è un legno scurito con un po' di caffè, l'effetto sarà già più soft, più leggero oppure potete utilizzare tranquillamente il noce bruno, il noce bruno, il mordente lo potete trovare all'interno dei ferramenta o in qualsiasi negozio di modellismo e lo pagate veramente pochissimi euro. Come vedete abbiamo bruciato tutte e due le parti della tavola, le abbiamo dato qualche colpo qua e là per farle avere un maggiore effetto consumato. Abbiamo anche bruciato queste parti che avevamo precedentemente tagliato con il coltello per farle avere anche in questo caso un effetto più consumato e adesso con della carta vetro andiamo a smerigliare tutta la parte della tavola, sia da un lato, sia una faccia che l'altra faccia. Nel momento in cui abbiamo scartavetrato tutti e due i lati della nostra tavola andiamo a procedere facendo i buchi con un trapano oppure se volete potete arroventare un cacciavite o una punta e farci piano piano il buco è un metodo molto più rustico ma funziona lo stesso, dipende dall'effetto che volete avere. Io preferisco il trapano. Una volta fatti i buchi andiamo ad applicarci semplicemente una corda o una catenella in questo caso abbiamo intrecciato una corda e l'abbiamo legata. Una volta fatto questo andiamo ad applicare i disegni sulla base ovviamente i disegni li scegliete voi in base al tema sempre comunque visto che è un'insegna antichizzata utilizzate sempre qualcosa che possa essere tra virgolette storico. Andiamo adesso ad attaccare il disegno sul fondo così da finire il nostro lavoro. Eccoci alla parte finale del nostro lavoro abbiamo semplicemente utilizzato il nostro logo e l'abbiamo incollato con un po' di malta anche attorno per far sembrare un effetto quadro. la corda è intrecciata con il metodo fiammingo e ovviamente voi potete anche utilizzare altri sistemi per esempio se volete utilizzare il pirografo lo potete utilizzare come dicevamo all'inizio del video facendo direttamente il disegno bruciando il legno o potete utilizzare anche il sistema solo a disegno senza malta un po' come piace a voi qua ne abbiamo fatte tante altre un po' di stili diversi in questo caso per esempio è stato utilizzato un sistema misto disegno, malta e bruciatore attorno per farlo sembrare ancora più particolare. in ultimo abbiamo preparato anche questo e anche in questo caso il pirografo è stato utilizzato per la scritta e il disegno è una fotografia riportata a disegno e anche qua ho utilizzato la corda ma come dicevo prima potete utilizzare la catenella e per il resto come sempre condividete mettete un like commentate fate quello che volete un grazie e alla prossima